Musica Bentrovati alla Tigilis della Giunta Regionale di Basilicata. La Giunta Regionale ha approvato 15 progetti per un totale di 36,6 milioni di euro. I progetti approvati, spiega l'assessore Franconi, riguardano il completamento delle ristrutturazioni di alcuni presidi ospedalieri, tutte finalizzate all'inalzamento degli standard qualitativi delle strutture e delle prestazioni della sanità lucana. Con l'accordo di programma del 2016 per gli investimenti nella sanità, commenta il Presidente della Regione Basilicata, Marcello Pittella, mettiamo in campo una grande e complessa attività di rinnovamento. In questi anni non solo abbiamo creato le condizioni, ma abbiamo avviato a finanziamento specifiche emergenze, grazie al costante lavoro degli uffici regionali, in sinergia con le aziende del Servizio Sanitario Regionale, AOR San Carlo, ASP di Potenza, ASM di Matera e IRC Scrob di Rionero. La lotta allo spopolamento delle aree interne passa anche attraverso il sostegno del PSR Basilicata alle comunità al fine di realizzare opere che mettano nelle condizioni i cittadini residenti di avere a disposizione le strutture minime utili in ambito turistico, sportivo e sociale. Lo comunica l'assessore alle politiche agricole e forestali Luca Braia. Per la prima finestra del bando 7.5 sono 21 su 90 pervenute le domande ammesse e finanziabili per un importo complessivo di 2,7 milioni di euro, di cui il 76% relative alla provincia di Matera e il 24% alla provincia di Potenza. Grazie al PSR Basilicata i comuni potranno essere più funzionali e pronti a fornire servizi di aggregazione alle rispettive comunità rurali. La nascita di un nuovo parco risponde alla crescente domanda da parte di un'utenza esigente che oggi cerca il contatto con la natura e va al tempo stesso alla ricerca di nuove proposte turistiche e culturali e quanto afferma l'assessore all'ambiente ed energia della regione Basilicata Francesco Pietrantuono, a margine dell'istituzione in consiglio regionale del Parco Naturale Regionale del Vulture. Le amministrazioni pubbliche interessate dalla creazione del parco, oltre alla regione Basilicata, sono la provincia di Potenza, l'area programma Vulture Alto Bradano, i comuni di Melfi, Rionero in Vulture, Rapolla, Barile, Ripa Candida, Ginestra, Sanfele e Atella. Il disegno di legge sullo spettacolo, approvato dalla Camera, aumenta le risorse di 19 milioni di euro per i prossimi due anni e di 22,5 milioni di euro dal 2020. Lo comunica Patrizia Minardi, dirigente dell'ufficio regionale Sistemi Culturali e Turistici della regione Basilicata. Grazie al provvedimento, evidenzia Minardi, anche le orchestre, i festival, i centri di produzione teatrale e di danza potranno avvalersi del credito d'imposta del 65%. L'iniziativa nazionale, osserva Minardi, conferma l'impostazione della legge regionale numero 37 del 2014 che punta sull'industria culturale e creativa. Oggi, dopo tre anni dalla legge 37, possiamo contare su 4.300 unità. Studiare approfonditamente il quadro economico, sociale e tecnologico regionale a fine di renderla comunità intelligente attraverso un'innovativa struttura organizzativa basata sull'integrazione di moderne tecnologie di osservazioni della Terra con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. E' questa la mission del progetto Smart Basilicata. Nato in risposta al bando MIUR Smart Cities and Communities di cui se ne discuterà ampiamente venerdì 17 novembre 2017 alle ore 10 presso la Sala Convegni del CNR di Tito. Il progetto propone contestualmente attività di ricerca e sperimentazione. Il convegno illustrerà le attività formative riguardanti i quattro obiettivi del progetto che coinvolgeranno 53 giovani laureati sostenuti durante il percorso da borse di studio. Cibo di qualità sicuro che fa bene e rispetta l'ambiente La Basilicata del Biologico, dopo essere stata Regione dell'Anno nel 2016, è stata presente per il terzo anno consecutivo dal 9 al 12 novembre a Bolzano al Biolife, fiera specializzata nel biologico. La visione politica sta caratterizzando la volontà e l'azione di destinare cospicue risorse del PSR Basilicata 2014-2017. Oltre 87 milioni di euro proprio al sostegno dell'agricoltura biologica caratterizzando di conseguenza la qualità dell'agroalimentare lucano nelle dimensioni della sostenibilità e della salute. Ed è tutto, grazie per aver seguito il TG LIS della Giunta Regionale di Basilicata. Grazie a tutti.